Visto studenti? Sì. Fred, io sì, abito di fronte. Bam! Sono in panico per l'esame. Ti affordo a bere così ti rilassi. No, non bevo alcolici. Ehi, Ehi! Lei non si è presentato all'esame, quindi ha l'obbligo di lasciare il nostro paese. Tu mi sposeresti? Sono 15.000 euro. Ti sposo io se vuoi. Non so come ringraziarla. Prego. Fred? Sì? Sposami, amico mio. Che? Tutto bene, amore. Allora vuoi sposarti? Sì. Però... Mi dichiaro marito e marito. Sono la gente d'ussare. È un matrimonio feto? No. No. Non importa quanto ci potrà, riuscirò a inchiodarti. Siamo gay credibili? No. Ce n'è uno solo? Sì, perché noi condividiamo tutto. Bene. Progetti in comune? Io vorrei dei figli. Claire. Ti farai scoprire. Stai bene? Non aver paura. Ti salvo io, fratello. Ehi, ti sembra carino? Davanti a tuo marito per di più. O winning. I won't! Grazie a tutti